Stenta a decollare il casa per casa, conferimenti di rifiuti misti in Viale Cadore, consumatori attivi, denuncia anche il degrado di marciapiedi. Un uomo ferito alla gamba con forbici o cocci di vetro a Cervignano, nel Manzanese, in asse, chiudono un locale, trovati ratti e escrementi. Nessuna apertura su Martignaco, i sindacati fanno saltare l'incontro con l'azienda sul futuro di Longarone, giovedì su Safilo, Tavolo, Almise. Nuovo capitolo della storia infinita dell'ascensore al castello di Gorizia, il 20 gennaio ripartono i lavori, un'opera di cui si parla ormai da 20 anni. Udinese con Gotti riecco gioco ai punti, la squadra in costante crescita, De Paul è tornato condottiero, da tre turni va in golle, sei punti in più rispetto a un anno fa. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione della sera del nostro TG in studio assieme a me Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Angela, buonasera a tutti. Siamo pronti dunque per partire parlando della raccolta casa per casa. Udine continua a far discutere il nuovo sistema di raccolta differenziata avviato a dicembre nella zona della ex seconda circoscrizione e che si estenderà a febbraio anche nelle circoscrizioni 4, 5 e 6. Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo in Viale Cadore, segnalata dall'Associazione Consumatori Attivi come una delle vie più critiche rispetto ai risultati del nuovo sistema di raccolta. Vediamo l'intervista che la nostra Monica Nardini ha realizzato alla vicepresidente dell'Associazione Barbara Venuti che oltre al sistema della raccolta differenziata mette in luce anche altre criticità. Andiamo a vedere. Appena entremmo in Viale Cadore, questo è il benvenuto in Viale Cadore. Voi vedete ogni giorno questo spazio? Certo, questo ma oltre a quello all'entrata sulla curva andando più avanti perché molti hanno compreso che quello è l'angolo in cui vengono posizionati i bidoncini quindi ovviamente bisogna dire che è peggiorato il cosiddetto turismo della spazzatura e quindi troviamo sacchetti di tutte le origini che arrivano e hanno dentro di tutto. Vediamo la carta mischiata con diversi sacchetti contenenti i prodotti con la plastica. E qua si pone il problema, bene, dobbiamo educare i cittadini, andavano educati prima quindi non in fase e quando già tutto è iniziato. Altra cosa, abbiamo monitorato le zone, c'è una presenza di comunità straniere, queste brochure a me è stata girata una versione inglese solo un paio di settimane fa dal mio amministratore evidentemente si sta provvedendo tardi, si è provveduto a tradurla in svariate lingue affinché le presenze e le comunità straniere a Udine sappiano come conferire perché c'è anche questo problema a cui nessuno ha pensato. Il problema è verso tutta questa zona, se andiamo più avanti i condomini adiacenti sono stati costretti non avendo posto a posizionare i bidoni sulle rampe ma stiamo scherzando, i bidoni sulle rampe che danno accesso ai garage. La sicurezza, la difficoltà nell'aprire se non è abbastanza illuminato cioè questi sono problemi che sono importanti oltre alle spese nascoste. L'associazione consumatori attivi ha fatto già diverse richieste all'amministrazione comunale. Certo, assolutamente, quindi isole ecologiche con conferimento controllato che sia con la chiave, col badge, qualsiasi soluzione che porti innanzitutto ad educare, a portare ad un comportamento corretto perché noi condanniamo e sottolineo condanniamo l'atteggiamento in civile o il turismo della monnezza se vogliamo essere un po' così nudi e crudi. Però ci vuole da parte dell'amministrazione una grande collaborazione e un monitoraggio che a nostro avviso non è stato fatto. Noi abbiamo incontrato l'amministrazione, la NET, prima delle festività siamo in attesa di convocazione entro gennaio io nei prossimi giorni sollecito perché è fondamentale perché la situazione si sta assolutamente aggravando e si è aggravata e sta peggiorando dal momento in cui ha iniziato il casa per casa. Il casa per casa ha dato, come sostiene qualcuno, una buona risposta non è perché c'è stata una risposta, è perché mancano i bidoncini esposti perché la gente, oltre al problema di doversi tenere a casa magari in un mini 5 bidoni di cui 4 da 40 litri, è in grande difficoltà. Volevo lasciarle il tempo di lanciare un altro appello su questa via che presenta diverse criticità dal punto di vista della sicurezza stradale. Assolutamente sì perché se mi devo ritrovare oltre ai bidoni un marciapiede o una strada totalmente dissestata in cui, e non solo è pericoloso per chi ci abita ma per chi ci passa si rischia veramente di cadere, di farsi male direi che questo viale ormai è diventato totalmente indicoroso quindi l'amministrazione che provveda sollecitiamo perché è fondamentale ed è necessario riportare questa città come era qualche anno fa. E a proposito di segnalazioni di situazioni di degrado alla nostra pagina Facebook, Nicola, è arrivata la segnalazione di un'altra criticità in città. Esatto, dall'altra parte della città ci sfostiamo in questo caso in via Sabadini nei pressi del palazzo della regione dovremo avere anche delle immagini al riguardo e vedete proprio di fronte a quello che è la sede dell'istituzione del Friuli Venezia Giulia c'è una trave pericolante lì c'è un passaggio, c'è una scuola vicina potrebbe cascare da un momento all'altro addirittura chi ci segnala sostiene che potrebbe trafiggere i passanti ci auguriamo che non succeda ma ovviamente segnaliamo questo disservizio perché diventa veramente pericoloso senza esagerazioni ma non è né un bel vedere nemmeno sicuro per chi si trova a passare in quelle zone. E ringraziamo il nostro telespettatore che ci ha inviato questa segnalazione vi ricordiamo appunto la nostra pagina Facebook alla quale potete iscriverci per segnalare quello che secondo voi non va in città e non solo. Continuiamo con la cronaca adesso andiamo a vedere le nostre flash news che come sempre ci riassumono gli ultimi avvenimenti della giornata di oggi gli avvenimenti delle ultime ore in primo piano c'è la rissa all'esterno di un bar in pieno centro a Cervignano del Friulo un episodio dai contorni ancora da chiarire e poi ancora un locale chiuso nel Manzanese dove i NAS hanno trovato dei ratti anche degli escrementi andiamo a sentire allora le nostre flash news curate oggi da David Zanirato Rissa con ferimento di una persona sabato notte a Cervignano del Friulo nei pressi di un bar del centro paese secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato un alterco tra un cervignanese in compagnia di alcuni amici sportivi e un altro soggetto all'improvviso la lite è degenerata e l'uomo è stato ferito ad una gamba pare da un oggetto contundente forse una forbice o un accoccio di vetro di una bottiglia sul posto sono stati chiamati i carabinieri e i sanitari della Croce Verde che hanno soccorso il ferito trasferendolo in ospedale a Udine non sarebbe in pericolo di vita indagini in corso da parte dei militari dell'arma i carabinieri della NASA di Udine assieme all'azienda sanitaria hanno eseguito nei giorni scorsi un controllo in un noto locale del settore della ristorazione era stata segnalata infatti una situazione di carenza di igiene particolarmente importante ritrovati numerosi eroditori escrementi di topo e anche carcasse di ratti morti vista la gravità della situazione è stata disposta l'immediata chiusura del locale con conseguente blocco della somministrazione di alimenti e bevande disposta la multa e l'obbligo di sanificazione dei locali stava aiutandosi a respirare con un apparecchio apposito durante il sonno quando per causa ancora da chiarire il macchinario ha preso fuoco provocandogli un ostione che lo ha costretto a ricorrere alle cure del personale sanitario vittima un uomo di 80 anni residente nelle valli del Natisone l'episodio si è verificato nel corso della notte è stata la moglie poco prima delle 4 dare l'allarme a chiedere aiuto il ferito ha riportato lesioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita gustioni in più parti del corpo incidente stradale stamattina in via Cosattini in centro città Udine una Fiat Punto è andata a collidere contro uno scooter all'altezza dell'incrocio con via Raimondo D'Aronco ferito lievemente lo scooterista che è stato soccorso è trasferito per accertamenti in ospedale sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico ladri in azione nella notte a Campoformide dopo aver forzato una porta i malviventi sono penetrati all'interno di una ditta rubando numerose marmitte catalitiche a Cervignano e Pozzuolo del Friuli invece furti in serie in alcune abitazioni stanze messe a soquadro e sottratti gioielli oro, monidi e denaro in contanti e sempre per quanto riguarda la cronaca Nicola c'è un episodio da segnalare anche in città in un supermercato di Udine esatto un episodio che si è verificato venerdì alla COP del quartiere di Chiavris in via Montegrappa un anziano un 73enne per causa che sono ancora al vaglio da parte dei carabinieri è stato aggredito da una persona che era in coda con lui alla cassa un 32enne residente a Tavagnaco stavano aspettando di pagare di uscire dall'esercizio pubblico e il 32enne ha preso a pugni l'anziano che è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia denuncia a piede libero per il 32enne e poi e sempre per quanto riguarda la cronaca ci sono anche gli ultimi dati della polizia stradale di Pordenone che nel mese di dicembre ha effettuato una serie di controlli straordinari del territorio quante multe quante infrazioni tantissimi tantissimi numeri come al solito quando arrivano questi bilanci stiamo ancora facendo i conti di dicembre come hai detto tu quindi 491 violazioni al codice della strada ovviamente la Ponte Banna al territorio di maggior pertinenza per quello che riguarda la polstrada di Pordenone 32 incidenti stradali 25 persone ferite 3 veicoli pesanti coinvolti 18 sanzioni per circolazione di veicolo senza revisione periodica questo mi ha impressionato ho trovato in un mese 18 veicoli che non fanno la revisione quindi facciamo anche un po' di tv di servizio fate la revisione periodica perché ne va del vostro veicolo e anche della salute di tutti quelli che sono su strada assieme a voi più che altro ricordatevi di controllare il libretto di circolazione che molto spesso ci si dimentica ci si dimentica in effetti violazioni queste quelle legate appunto alla mancata revisione del veicolo che superano anche le guide in stato di ebrezza che sono state riscontrate dalla polizia stradale 8 casi se non sbaglio in memoria su oltre 300 persone controllate esatto 8 casi 2100 veicoli controllati complessivamente abbiamo detto tutto e allora apriamo un'altra pagina quella purtroppo non bella del mondo del lavoro in primo piano ancora la crisi della Safilo perché è saltato il tavolo di confronto tra azienda e sindacati sulla ristrutturazione dello stabilimento di Longarone in programma nel pomeriggio mentre in mattinata si è riscusso dei 50 esuberi nella sede centrale di Padova lo hanno confermato le organizzazioni sindacali di categoria di Belluno spiegando che la decisione è stata assunta in seguito alla mancanza di risposte soddisfacenti sul futuro dell'impianto di Martignacco per il quale l'azienda non avrebbe modificato le proprie intenzioni di chiusura definitiva con il licenziamento di 250 unità la presenza la nostra presenza al tavolo su Longarone hanno sottolineato oggi i sindacati era subordinata al fatto che si fosse ottenuto nel vertice di venerdì un esito positivo sullo stabilimento friulano così non è stato non abbiamo registrato alcuna apertura sulla possibilità di aprire dei ragionamenti su ipotesi di contratti di solidarietà o strumenti alternativi alla chiusura completa dell'impianto da qui la decisione appunto dei sindacati di non avviare il confronto almeno per ora anche sulla situazione bellunese l'argomento sarà dunque riportato in questi termini all'incontro al ministero per lo sviluppo economico in programma il 16 gennaio domani invece ci sarà un confronto tra azienda e sindacati a Trieste la regione ha avviato un dialogo anche con Confindustria proprio per cercare di definire il futuro dello stabilimento di Martignacco non lasceremo alcuna strada intentata ha detto l'assessore regionale all'attività produttive del Friuli Venezia Giulia Bini al fine di advenire ad una risoluzione positiva per i lavoratori della Safilo di Martignacco per questo la regione sta dialogando anche con Confindustria Udine che può svolgere un ruolo strategico in questa complessa vicenda e andiamo a sentire adesso anche le parole dei rappresentanti dei lavoratori anche del sindaco di Martignacco che fanno il punto proprio sulla crisi sentiamo un incontro partecipato ci sono delle speranze dei spiragli poter avere un colloquio diretto con il sottosegretario Todè credo sia stato un evento particolare per far capire direttamente ai rappresentanti delle istituzioni quali sono le vere esigenze loro e le vere capacità di questa azienda lei ha fatto notare come ci siano dei casi di famiglie in cui entrambi i genitori lavorano alla Safilo quindi un doppio dramma certo insomma intanto il numero è consistente parliamo di 235 lavoratori di cui l'80% prevalentemente è manodopera femminile quindi anche un po' di difficile ricollocazione sul mercato del lavoro poi ci sono diversi casi in cui entrambi i componenti la coppia lavorano nello stesso stabilimento per cui è anche molto molto difficile poi per loro pensare al futuro lei andrà all'incontro al Mise ho ascoltato oggi i lavoratori ci stiamo organizzando decideremo credo nelle prossime ore nei prossimi giorni però sarò sicuramente vicino a loro qual è il pensiero dei lavoratori espresso oggi in occasione di questo incontro noi siamo un'azienda una fabbrica che in questo momento ha una capacità di poter produrre tranquillamente un numero di occhiali importanti e ha tutta la struttura per poterlo fare in questo momento il mercato dell'occhialeria è in evoluzione e in crescita la Safilo purtroppo sta attraversando un periodo di crisi però Martignacco è pronta ed è pronta per poter partire anche con qualsiasi altro imprenditore del settore che possa in qualche modo rilevare questa azienda perché è come una macchina pronta a tutto non ha bisogno di manutenzioni si può consegnare le chiavi a un altro imprenditore e noi partiamo a produrre quindi quello che noi mettiamo in campo è il nostro cuore la nostra volontà di fare la nostra capacità di fare e c'è anche un'altra situazione di crisi al centro del dibattito al centro anche di un referendum sull'accordo che è stato stabilito con la proprietà stiamo parlando della ferriera Nicola cosa hanno detto i lavoratori storica della ferriera di Servo i lavoratori hanno approvato l'accordo sindacale presentato dal gruppo Arvedi lo scorso 23 dicembre al Mise su 513 a 20 diritto al voto attraverso il referendum appunto 277 dipendenti hanno deciso per il sì e 192 per il no l'intesa che è parte integrante dell'accordo di programma prevede al primo punto la chiusura dell'area caldo dell'impianto siderurgico triestino oggi è una giornata storica si tratta del miglior risultato che si potesse ottenere questo è il primo commento al termine dello sponsor da parte di Antonio Rodà della Wilm raccolto dall'agenzia ANSA la sanità adesso un potenziamento del servizio di medicina legale presso l'azienda sanitaria del Friuli centrale e interventi per ridurre i tempi d'attesa per le prestazioni mediche sono queste alcune delle principali richieste dell'associazione di tutela diritti del malato della provincia di Udine realtà che ha organizzato per venerdì pomeriggio un convegno in centro a Udine su alcune novità legate alla responsabilità sanitaria sentiamo la presidente dell'associazione l'avvocato Anna Agrizi al microfono di Monica Nardini gli ultimi casi proprio freschi freschi sono riguardo degli infortuni sul lavoro il primo gennaio è nata l'azienda sanitaria universitaria unica per il Friuli centrale ci sono nuovi casi relativi proprio anche a questo lasto di tempo ultimo è presto per parlare però quello che sicuramente come associazione di diritti del malato ci auspichiamo che il nuovo direttore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli centrale si occupi di potenziare il servizio di medicina legale perché abbiamo dei casi in cui stiamo attendendo la perizia di parte del dottor Moreschi che appunto è lo specialista dell'azienda sanitaria Friuli centrale da tre anni da più di tre anni questo è assolutamente gravissimo un unico medico legale non può chiaramente farsi carico di centinaia di casi di responsabilità medica che riguardano un'azienda grande come l'azienda sanitaria di Udine e quindi noi chiediamo che vengano avvicinati a fianco in questo caso appunto del dottor Moreschi degli altri specialisti ma questa è una situazione che non riguarda soltanto l'azienda di Udine ma anche ad esempio Palmanova anche se sono comunque più veloci perché c'è un pool di medici più diciamo fornito ma anche appunto l'azienda sanitaria di la ex AS3 zone in cui rilevate particolari criticità nella tipologia di richieste di assistenza in questo momento chiaramente noi siamo molto focalizzati sull'azienda di Udine e soprattutto per quanto riguarda la lista d'attesa perché sempre di più non sono rispettati i termini richiesti dai medici di base per fare le visite specialistiche e su questo noi come associazione stiamo imbastendo una raccolta firme per sensibilizzare gli organi politici Avvocato ci sono anche novità rispetto alla normativa sulla responsabilità sanitaria lei interverrà in un convegno su questo proprio a Udine venerdì di quali novità si tratta? Sì noi come associazione di tutta la diritta del malato vi faccio vedere il volantino organizziamo questo convegno importantissimo sulla responsabilità sanitaria perché sono intervenute 11 sentenze l'11 novembre del 2019 proprio in ricordo delle famose sentenze di San Martino del 2008 che hanno chiarificato molti punti importanti sulla responsabilità medica ad esempio sul discorso del danno differenziale in caso appunto in cui ci sia un indennizzo IMS come viene quantificato il risarcimento piuttosto che il discorso dell'onere della prova ci spostiamo a Gorizia adesso per parlare dei lavori di ricostruzione anzi di costruzione dell'impianto di risalita al castello di Gorizia lavori che riprenderanno il 20 gennaio un'opera particolarmente tormentata con il primo bando risalente al 1999 il cantiere è stato aperto nel 2007 per poi essere chiuso per vari problemi negli anni successivi abbiamo fatto il punto con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna Una bella notizia ripresa dei lavori dell'ascensore per il castello il 20 gennaio Sì non poteva iniziare meglio l'anno il 2020 si dio vuole con tutti gli scongiuri ovviamente del caso dopo anni e anni di lavori bloccati per tutta una serie di note circostanze il rinvenimento di reperti sui quali c'è stato un interesse posto dalla sovrintendenza il fallimento di due società riaffidamento nuove gare per le progettazioni per la realizzazione dell'impianto ma finalmente sì il 20 gennaio dovrebbero ripartire i lavori e devono concludersi entro la fine dell'anno e per noi questo è un lavoro importante non soltanto per la salita in sé ma anche perché la salita è posta in relazione ad ulteriori lavori di importante riqualificazione che subirà il Borgo Castello e noi intendiamo riqualificarlo con interventi importanti un nuovo teatro tenda un nuovo bastione fiorito non più perciò una struttura esclusivamente estiva da utilizzarsi per due mesi all'anno è un castello riqualificato nuovamente torna a essere luogo di aggregazione e per turisti ma soprattutto anche per goriziani la salita del castello partirà da via Bombi? la salita del castello saranno tre step partiranno da dietro la galleria Bombi un primo step per una salita in obliqua due step invece come ascensori e le due fermate degli ascensori saranno una fuori esattamente delle mure del maschio perciò per chi conosce l'ingresso circa il vecchio ingresso del bastione fiorito e l'altro invece all'interno del maschio proprio a 20 metri da dove si titolverà la cassa la biglietteria per l'accesso al castello e l'ultimo step questa è una gara di poco superiore a 1.300.000 euro già in possesso ovviamente dell'amministrazione municipale che si assomma ovviamente alle altre importanti risorse che il comune ha già destinato e continuiamo a parlare di lavori pubblici ma ci spostiamo a Udine e Nicola per altri due interventi un po' più piccoli rispetto alla risalita al castello di Gorizia sì un disagio lieve però ne diamo notizia quello rappresentato dagli utenti per il passaggio in via Paolo Sarpe l'incrocio con via Valvason vediamo il traffico limitato solamente ai frontisti e poi ci spostiamo in una zona vicina della città sempre nella parte ovest rispetto al centro che è quella di Viale Ledra dove è stata ridotta una corsia appunto sempre per lavori legati all'acqua all'acquedotto cittadino e adesso apriamo la pagina sportiva parliamo di Udinese Udinese che continua a beneficiare dell'impronta di Mister Gotti e grazie alla vittoria sul Sassuolo la terza consecutiva termina il girone d'andata con 24 punti 6 in più dell'anno scorso questa mattina squadra di nuovo in campo per preparare il match di Coppa Italia contro la Juventus sentiamo Lorenzo Pausa la vittoria sul Sassuolo segna ulteriormente i progressi di un Udinese rinfrancata dai risultati e maturata sul piano del gioco i frutti della cura Gotti si vedono non solo per i 6 punti in più rispetto alla fine del girone di andata dell'anno scorso ma anche per quella capacità di leggere la partita in maniera di volta in volta diversa seconda dell'avversaria di turno il tecnico veneto sapeva che ieri per vincere andavano sfruttati gli errori dei neroverdi per colpire poi con le ripartenze ed ecco che sul punteggio di 1 a 0 con la squadra di De Zerbi vicina al pareggio con le bordate di Traorè e Boga respinte da un prodigioso musso i bianconeri hanno confezionato in contropiede i due gol che hanno messo i titoli di coda al match ma non è questo l'unico aspetto a premiare l'operato di Mister Gotti che sta vedendo ripagate anche le scelte relativa ai singoli primo su tutti Rodrigo De Paul tutto un altro giocatore rispetto a quello di inizio campionato è capace di tornare in gol con continuità grazie a tre centri siglati negli ultimi 270 minuti ecco perché Gotti fa bene a godersi a pieno il momento positivo della squadra sempre però con un occhio alla sfida successiva ora di incombere c'è il match infrasettimanale di Coppa Italia in casa della Juventus impegno improbo sulla carta ma che va giocato senza paura il gruppo ha così ripreso subito la preparazione con una seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri e per tutti gli altri una partitella in famiglia con la formazione primavera si continua ad allenarsi alle 12 e 30 dato che domenica sarà ancora launch match alla ripresa del campionato contro il Milan domani altra seduta ora di pranzo prima della partenza per Torino cambiamo sport ma parliamo di un'altra vittoria importante Nicola esatto quella rappresentata dalla vittoria in Coppa del Mondo con la squadra nazionale di Mara Navarria che ieri a Lavana come vediamo dal suo profilo Facebook dalla sua fanpage ha celebrato in finale contro l'Estonia le ragazze azzurre hanno conquistato l'oro ed è una buona notizia in prospettiva qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo Ancora un K.O. sul parquet di Forlì per la pallacanestro Udine la squadra di coach Ramagli si arrende nel finale vittima dei propri grossolani errori adesso dunque è il momento di resettare ricalibrare le aspettative sulla base dei valori sin qui espressi sentiamo il servizio di Jacopo Romeo Seconda sconfitta consecutiva è trend nuovamente negativo per l'Apu che sul parquet di Forlì sceglie l'arma del suicidio sportivo per perdere la partita contro l'Uni Euro è stata praticamente una gara sempre sul filo del rasoio equilibrata e da portare a casa esclusivamente evitando caldi tensione ebbene la frittata è però arrivata a 30 secondi dalla fine confezionata da due dei più esperti Amtonutti e D'Amato autori di una rimessa sciagurata che sul meno 3 ha di fatti chiuso la contesa di positivo c'è la miglior prestazione dell'anno di Gerald Beverly autore alla fine di 23 punti e finalmente incisivo con la sua presenza nel pitturato ha confermato il suo momento positivo anche Vittorio Nobile molto produttivo su entrambi i lati del parquet il grande assente della serata invece è stato TJ Cromer protagonista di una prestazione versione ectoplasma a tratti imbarazzante raccontata meglio dei numeri che da più di tante parole 1 su 9 finale dal campo questo il suo impietoso tabellino non ci si può permettere il lusso di un americano con queste cifre se si vuole essere protagonisti in questo campionato ammetterci si poi sono stati anche i soliti infortuni con penna fuori causa nel primo tempo e un'assenza come quella di Fabi che questa squadra ad oggi non può permettersi ora nel giro di otto giorni dalle velità di vertice si è passate al dover ambire a consolidare la posizione in classifica in ottica fase d'orologio ma al di là della graduatoria è il momento in cui l'analisi deve essere finalmente realistica riguardo le potenzialità di questo gruppo che forse a questo punto è e sarà sempre questo non avendo molto più potenziale di esprimere rispetto a quanto si inquivisto siamo al calcio femminile adesso con il Tavagnacco che dopo la sconfitta di Trieste contro la Juventus deve subito rialzare la testa perché fra sei giorni al comunale arriva l'orobica e sarà una sfida da non sbagliare in palio punti importantissimi per la lotta salvezza sentiamo Alessandro Surza è stata una prima volta dolce amara per il calcio femminile al Nereo Rocco di Trieste teatro del big match tra il Tavagnacco virtualmente padrone di casa e la Juventus che si sono affrontate ieri alle ore 12.30 nel capoluogo friulano il risultato è stato netto anche se probabilmente troppo severo per quanto visto nell'arco dei 90 minuti il 5-1 finale ha confermato l'ampio divario tra le due compagini ma le giallo-blu di Mister Lugnan hanno retto il confronto per quasi tutto il primo tempo con le campionesse in carica andando anche in vantaggio con Chandarana e avrebbero meritato di chiudere almeno in parità i primi 45 minuti nella ripresa poi le bianconere hanno dilagato trovando però gli ultimi due gol che hanno ingigantito il punteggio solo nei minuti finali se da un lato è da lodare il coraggio con cui i benedetti e compagni hanno approcciato la gara facendosi valere e mettendo in difficoltà le torinesi onorando al massimo l'impegno il rovescio della medaglia evidenzia un'accoglienza tiepida da parte del pubblico giuliano con meno di 2000 persone presenti sugli spalti la Juventus quindi si conferma capolista conquistando il titolo di campione d'inverno e chiudendo l'andata con 31 punti su 33 disponibili mentre il Tavagnaco resta al penultimo posto a meno 3 dal Bari decimo le possibilità di raggiungere la salvezza ci sono tutte ma adesso bisogna iniziare a vincere anche tra le mure amiche dopo aver trovato i primi 3 punti dell'anno in trasferta a San Gimignano nell'ultimo turno del 2019 possibilità che il calendario offre subito alle Friulane che domenica hanno l'opportunità di fare bottino pieno nel delicatissimo scontro salvezza contro l'orobica vincere fra sei giorni è un obiettivo da non fallire siamo in addirittura d'arrivo di questa edizione del nostro TG Nicola ci sono aggiornamenti ultimora no diamo la nostra programmazione di stasera Angela alle 21 in onda Udinese Tonight per analizzare la partita di ieri dell'Udinese successo per 3 a 0 sul Sassuolo ovviamente con Giorgia Bortolosi Jacopo Romeo e Jens Strugger Larsen come ospite ed eccezione alle 22 invece speciali del TG con Francesco Pezzella si parlerà di autonomia differenziata grazie a Nicola Angeli per tutte le news dal web grazie Angela buonasera Nicola buonasera anche a tutti voi che ci avete seguito in questa edizione serale del nostro TG e come sempre vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia buona serata a tutti su Udinese TV a tutti grazie a tutti